odentur jesus et maria amici carissimi bentornati a una puntata del catechismo romano o anche detto anche il catechismo del concilio di trento chiedo scusa che c'è un po di scusate voce oggi a dio piacendo cominceremo a parlare in ascolto del catechismo del della risurrezione con un po di anticipo diciamo così rispetto al momento in cui questa catechia si va in diretta che siamo ancora in piena quaresima più o meno a metà del tempo che ci separa dalla pasqua però magari con questa la prossima puntata del catechismo ci prepariamo un po meglio la pasqua quando andiamo a vedere in la lettura che il catechismo romano molto bella da della risurrezione dell'ascensione della parusia che sono tre articoli che formano tutt'uno no bene vando a troppe troppe introduzioni dire subito di procedere alla lettura poi come sempre al commento del testo il glorioso mistero della risurrezione di cristo risuscitò cristo è risorto per virtù propria cristo primo genuto dei morti e perché cristo è risorto il terzo giorno perché nel simbolo costantino politano fu aggiunto secondo le scritture necessità e scopo della risurrezione di gesù cristo utilità della risurrezione di gesù cristo esempi che si ricavano dalla risurrezione di gesù cristo e i segni della nostra risurrezione ho fatto un po' una sintesi mi sembrava opportuno un sommario dei paragrafi in cui è suddiviso articolato meglio questo punto del credo 1. il glorioso mistero della risurrezione di cristo risuscitò segue la seconda parte dell'articolo a spiegare la quale con la maggior premura sono d'incitamento al parroco queste parole dell'apostolo ricordati che il signore nostro gesù cristo è risorto dai morti è fuori dubbio che il precetto dato a timoteo vale anche per tutti gli altri che hanno cura di anime il significato dell'articolo è questo cristo nostro signore spirò sulla croce all'ora nona del venerdì e fu sepolto in quel medesimo giorno dai discepoli i quali con il permesso del procuratore pilato chiusero il il corpo del signore deposto dalla croce entro un sepolcro nuovo situato in un attivo giardino ma il terzo giorno della morte che divenne il giorno del signore al primo chiarore dell'alba l'anima di lui si congiunse di nuovo con il corpo e così egli che era rimasto per tre giorni nella morte ritornò alla vita abbandonata morendo e risorse l'unica cosa da notare in questo punto dove spiega il significato dell'articolo è che cosa è successo cosa è stata la risurrezione se abbiamo capito bene quanto spiegato precedentemente la morte di Gesù non ha interrotto o inficiato l'unione ipostatica perché l'unione ipostatica del verbo è rimasta sia con l'anima che con il corpo erano semplicemente divise come accade sempre al momento in cui sopravviene il fenomeno della morte corporale una cosa orribile che l'anima lascia il corpo e il corpo diventa cadavere inanimato si dice inanimato cioè privo dell'anima come era il corpo di Lanzaro quindi l'anima del Signore stavolta però per virtù propria torna nel corpo e appunto lo fa risorgere sappiamo bene che c'è una differenza sostanziale ma certamente poi il catechismo lo piegherà il grande fatto della resurrezione di Gesù Cristo non è semplicemente che è risorto perché di resurrezione appunto il nostro Signore ne ha operate lui tre e una montagna di santi ne hanno operate a gogo durante il corso della storia ma che lo ha fatto per virtù propria e soprattutto come scrive San Paolo che la sua resurrezione è stata una vittoria sulla morte perché Cristo risuscitato dai morti non muore più Lanzaro è stato risuscitato da Gesù ma poi è morto la figlia di Gairo del Sinagogo è stata risuscitata da Gesù ma poi è morta il figlio della vedova di Nain è stato risuscitato da Gesù ma poi è morto Cristo risuscitato dai morti non muore più allora proseguiamo con il paragrafo 73 Cristo è risorto per virtù propria con la parola risurrezione tuttavia non si deve intendere soltanto che Cristo risuscitò da morte come avvenne a molti altri ma che risorse per sua forza e virtù cosa che fu esclusiva di lui la natura infatti non tollera ne è stato mai concesso ad alcuno di rievocare se stesso da morte a vita per propria virtù cioè detto in altre parole nessuno che è stato portato al cimitero e sepolto può uscire da lì per virtù propria la risurrezione è proprio il sigillo della divinità della nostra fede si chiama fede divina e cattolica a un musulmano noi potremmo dire tu credi ma ho metto è tornato dal cimitero con le gambe proprie ma ho metto lui diceva che per carità che Gesù era un grande ma che era un grande profeta e lui era l'ultimo più grande di lui guarda che quello che tu pensi essere il profeta prima di più grande dopo maometto è tornato dal cimitero con le gambe sue e l'hanno visti molti l'hanno testimoniato il tuo capito quanto è importante il mistero della risurrezione no proseguo la lettura ciò era riservato all'infinita potenza di Dio secondo la parola dell'Apostolo se egli è stato crocifisso a causa della sua debolezza e tra parentesi quadri nel senso che qui il catechismo si sta interpretando umana vive però per virtù di Dio la quale divina virtù non essendo stata mai separata né dal corpo di Cristo nel sepolcro né dall'anima durante la discesa negli inferi vedete come lo ribadisce anche qui come ho fatto io prima per introdurre e spiegare il primo paragrafo rimaneva sempre presente sia nel corpo per potersi ricongiungersi all'anima sia nell'anima per poter ritornare nel corpo vita così poter ritornare a vita per virtù propria e risorgere dai morti davide pieno dello spirito di Dio lo aveva predetto con queste parole la sua destra e il suo braccio gli hanno dato vittoria salmo 97,1 e lo stesso Cristo nostro Signore lo confermò con la divina testimonianza della sua parola io do la mia vita per riprenderla di nuovo sono padrone di darla e padrone di riprenderla uno dei passi sinceramente questo è Giovanni 10,17 che nessuno me la toglie la vita io la offro da me stesso perché ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo fantastico Gesù ha potuto morire perché perché si è incarnato e si è incarnato proprio per questo per poter soffrire e morire guardate che il verbo di Dio si è incarnato per la nostra salvezza ma per poter soffrire e morire ma attenzione era sempre il verbo di Dio quindi lui poteva non soffrire sotto l'ultimo punto di vista primo perché poteva assolutamente con la sua potenza divina inibire inibire certamente utilizzando la sua potenza divina ogni possibilità di come dire di di essere sollecitato dal dolore sensibile no io puoi fare qualunque cosa non solo poteva fermare in ogni momento chi minacciava la sua vita e poteva arregargli dolore no e questo l'ha dimostrato perché Gesù è un gezzemani chi cercate sono io tutti per terra sono io io sono ci viene il principe di questo mondo perché il regista della passione della morte di Gesù è il diavolo egli non ha nessun potere su di me ma bisogna che il mondo sto citando l'evangelio sempre di san giovanni la parte finale del discorso da dio sappia che io amo il padre e faccio quello che il padre mi ha ordinato è il padre che ha detto al figlio vai soffri e muori per l'uomo peccatore perché da questa cosa dipende la possibilità della salvezza per ogni uomo crederà in te e quindi Gesù si è fatto fare di tutto ma si è fatto fare di tutto si è lasciato fare se ci prendono qualcuno di noi e ci torturano non possiamo farci nulla non possiamo né inibire la sensibilità del nostro tatto al dolore e né tantomeno fermare i torturatori se con la violenza ci sopraffanno e quindi ci ci fanno del male ma lui poteva quando gli dicevano wey se tu sei figlio di dio scendi forza facci vedere poteva farlo ma non l'ha fatto perché non ha voluto dico queste cose ecco con per sollecitare anche chi chi ascolta proprio a ad uno ad uno sguardo contemplativo è bellissimo contemplare queste cose e lasciare anche che la loro stessa contemplazione scenda dentro e ci faccia comprendere la grandezza di quello che il signore ha fatto per noi la bellezza anche l'unico uso che Gesù ha fatto della sua natura divina durante la passione sapete qual è stato aumentare in maniera esponenziale la capacità di resistenza a un dolore disumano un normale essere umano è impossibile non faccio il medico ma studiando bene la passione del signore apparsa poi Gesù ha fatto vedere la sua passione a una montagna non indifferente insomma di santi e mistici i quali forniscono poi uno diverso dall'altro dei dettagli veramente sconcertanti qualcuno si scandalizza quando vede che le rivelazioni private appunto a santi anche canonizzati riferiscono in qualche dettaglio chi c'ha ragione qual è la passione vera che ne so quella di di Teresa Neumann o quella di Alexandrina Maria da Costa quella di Maria Valtorta o quella di Anna Caterina Emmerich eccetera eccetera no a me piace pensare una cosa differente a parte il fatto che non potremo mai come dire risolvere le apparenti a mio avviso contraddizioni che come per quanto riguarda per esempio i grandi studiosi teologici di teologia il Signore non ha fatto vedere tutto a tutti la prova proprio la prova provata è che anche i geni più grandi contengono dei punti oscuri o meno felici il grande Sant'Omaso d'Aquino purtroppo io anche altre volte l'ho dovuto dire proprio per dimostrare questa cosa sull'immacolata concezione non l'aveva visto bene non certo perché carità no ma perché lui aveva la giustissima preoccupazione teologica di non nemmeno come dire lontanamente far passare l'idea che anche solo una creatura della razza umana potesse fare a meno della redenzione di Cristo il problema è che non aveva intuito pur con il genio che aveva il concetto di redenzione preservativa che colse per primo Giovanni di Tuscotto e non non gli è venuto in mente perché per lui la redenzione e la salvezza necessita la condizione di caduta è pur un genio Gesù Dio nel corso della storia ha se uno studia un pochino i grandi autori anche della teologia vedrà che ciascuno di loro è stato grande poi è stato anche come dire è stato fatto il copio in colla dai documenti del magistero ufficiale e autentico della chiesa di quell'autore per questa dottrina di quell'altro dottore per questa dottrina di quell'altro dottore perché è stata lottina ancora il concilio di Efeso l'ha fatto San Cirio di Gerusalemme di Alessandria copia e incolla il concilio di Calcedonia l'ha fatto Papa San Leone Magno copia e incolla larga parte del concilio di Trento l'ha fatto San Tommaso d'Aquino copia e incolla io do la mia vita per riprenderla di nuovo sono padrone di darla e padrone di riprenderla dice Gesù disse inoltre ai giudei per confermare la verità della sua dottrina disfate questo tempio e in tre giorni lo rimetterò in piedi altra allusione lo rimetterò io in piedi e lì c'è la solita eronia giovanea no? perché quelli stavano lamentandosi che aveva messo a soccuato il tempio di Gerusalemme dice che vuoi che ti crei di essere che vuoi fare nel tempio? distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere se ci sono voluti 46 anni e tu lo farai risorgere in tre giorni intelligentoni no? ed il rimando continuo di Gesù dal tempio di pietra al tempio di carne no? come era nell'omelia di domenica scorsa nella liturgia il nuovo sordo di domenica scorsa queste parole sebbene Giudere intendessero del magnifico tempio costruito di pietra egli le riferiva al tempio del suo corpo come è spiegato a questo punto dalle parole della saga scrittura e se talora leggiamo nella scrittura che Cristo Signore fu risuscitato dal padre questo si deve riferire a lui in quanto uomo appunto come si riferiscono a lui in quanto Dio le altre che dicono essere egli risorto per sua propria virtù anche questo non è contraddittorio nelle cose della fede figliari miei cari io vi supplico lo dico anche perché mi sono già scontrato io andandomi a soffrire sopra Romani 8-11 Cristo è stato risuscitato dal padre a dal padre allora non è vero che è risorto per virtù propria è stato risuscitato il verbo è passivo invece è risorto non è passivo è all'attivo sono vere entrambe gli eretici evidentemente hanno preso questi passaggi per negare la vera divinità di Cristo si 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 è un grande ma è stato risuscitato dal padre quindi non è veramente Dio perché Dio si è risuscitato da solo Vangelo di San Giovanni nessuno lo sa nemmeno il figlio ma solo il padre il padre è più grande di me e sto facendo ovviamente adesso l'avvocato del diavolo per mostrare come gli eretici prendono l'espressione effettivamente scritta così ma non vista nel contesto non insieme perché colui che ha detto il padre più grande di me ha detto anche io e il padre mio siamo una cosa sola allora contraddizioni ecco perché mi raccomando l'approccio alla sagra scrittura bisogna averlo con molta attenzione state attenti ci stanno in giro movimenti ecclesiali che con la sagra scrittura diversi movimenti ecclesiali con la sagra scrittura bisogna andare cauti perché perché lì dentro c'è scritto di tutto e il contrario di tutto tutti gli eretici tutti ci sono aggrappati ad interpretazioni erronee o unilaterali di brani della sagra scrittura ma guardate la setta diciamo così ereticale adesso tuttora adesso diffusa operante danni che sono i testimoni di Geova per favore state nella larga come diffondono le loro corbellerie con la Bibbia e altre volte ho detto non c'è nessun cattolico e che a volte credo anche non tutti i preti capace di poter controbattere alle loro argomentazioni quindi è una cosa meravigliosa la scrittura certo ma è un mare magnum non per niente le autorità della Chiesa decisero per diversi anni anzi secoli di dire meglio presentare ai fedeli il catechismo che il catechismo non è altro che una sistematizzazione razionale organica con un filologico delle verità rivelate che evidentemente hanno la fonte primaria nella saga scrittura vedete già qui proprio la mensa del catechismo romano ti prendi i passi della scrittura ti mostro quello in apparente contraddizione e te lo spiego così problema risolto io apparirò retrogrado ma conoscendo i danni che si fanno oggi in alcuni movimenti non ho paura di dirlo con l'uso distorto della saga scrittura tale scelta è tutt'altro che da condannare da biasimare per quanto mi riguarda cioè dentro la saga scrittura si può navigare perché è un mare magnum non da soli punto il libero esame è di Martino Lutero vuoi salire vuoi navigarci devi salire in una barca condotta da un buon timoniere non puoi andarci da solo perché vai a fare come dice San Paolo naufragio nella fede sicuro perché ti imbatterà inevitabilmente in una montagna di cose che ti provocheranno delle domande a volte terribili a cui non sai rispondere e quindi anziché aiutarti come ordinariamente devono fare le sagre scritture ad alimentare a crescere nella fede potrebbe complicartela ora andiamo avanti paragrafo 74 Cristo primogenito dei morti un'altra cosa fu peculiare di Cristo egli primo fra tutti frui di questo divino beneficio della risurrezione infatti nella scrittura è chiamato il primo a rinascere fra i morti Colossesi 1 18 e primo genito dei morti Apocalisse 1 1,5 e come è detto dall'Apostolo Cristo è risuscitato dai morti primizia dei dormienti poiché da un uomo venne la morte e da un uomo la risurrezione da morte come in Adamo tutti muoiono così tutti in Cristo saranno vivificati ciascuno però a suo luogo prima Cristo che è la primizia poi quelli che sono di Cristo anche qui domanda tutti coloro che stanno ascoltando questa catechesi credono fermamente che la morte corporale la morte corporale dipende solo dal peccato originale che noi ereditiamo e per questo moriamo ci crediamo tutti perché questo è di fede questo qui non è un optional cioè la grande domanda esistenziale dell'uomo che molti filosofi si sono posti e che bisogna porsi è perché io devo morire un giorno perché existe questa cosa brutta la morte perché la risposta è questa e chi volesse approfondire perché si può fare ancora un altro step e sì la morte è conseguenza del peccato originale e perché cosa che veneno ha introdotto il peccato originale che ci fa morire tutti quanti andala a scoprire questo diventa veramente sconvolgente chi volesse approfondire 5 di catechesi il peccato originale l'origine di ogni male poi si capirà anche questo come mai perché noi non noi nasciamo da volere di carne da carne e da volere di uomo dice il provo dell'angelo di san giovanni non nasciamo figli di dio diventiamo figli di dio per il battesimo in forza di questo ma poiché nasciamo da carne da volere di carne da volere di uomo siamo destinati a morire tutti chi è l'unica che non è morta per un miracolo pur essendo nata umanamente l'immacolata e perché? perché è immacolata e poi perché? perché non ha commessione sul peccato in vita niente peccato originale niente peccato attuale non si passa per la morte e si procede per l'assunzione guardate che io dico sempre le verità di fede sono verità di fede quindi non sono dimostrabili no perché se la puoi dimostrare non è una verità di fede è una verità delle scienze umane esatte cosiddette però al suo interno le verità rivelate hanno una coerenza ed una logica d'acciaio perché se la morte viene dal peccato originale e la risurrezione viene da Cristo per sfuggire alla morte tu non devi avere niente a che fare col peccato originale non c'è altro sistema e dopo non aver avuto niente a che fare col peccato originale non devi avere niente a che fare col peccato attuale perché se se tu lo riponi in essere il peccato produce la morte cioè San Paolo lo dice chiarissimamente il peccato produce la morte ora per quanto riguarda la morte fisica non è necessario il mio peccato attuale perché già per quanto già me la sono acquisita accordo già già l'ho vinta ok l'abbiamo già vinta per il fatto di essere concepiti l'abbiamo già vinta siamo condannati a morte per il fatto di essere concepiti non c'è bisogno questo non toglie che anche un peccato attuale produce la morte e non solo la morte fisica ma la morte dell'anima la perdita della grazia la morte eterna capite il peccato attuale non è più responsabile della morte fisica perché ripeto quello l'abbiamo vinta appena siamo stati concepiti ma il peccato attuale grave mortale te compra la morte eterna ora queste parole di primo corinzi 15,20 seguenti devono intendersi della risurrezione perfetta da un uomo viene la morte da un uomo la risurrezione dei morti Cristo primizia di quelli che sono risorti di che risurrezione si parla la risurrezione perfetta la chiama il catechismo romano cioè quella per la quale soppressa ogni necessità di morte passeremo alla vita immortale ora in questo genere di risurrezione Gesù Cristo è il primo luogo poiché se consideriamo quella risurrezione o ritorno alla vita a cui si è congiunta la necessità di una seconda morte allora prima di Cristo molti altri sono stati risuscitati da morte a condizione però di morire un'altra volta invece Gesù Cristo dopo aver vinto è sottomessa la morte è risorto in guisa da non poter più morire come è apertamente confermato dal passo Cristo risuscitato da morte non muore più la morte più non lo dominerà quindi la risurrezione di Gesù è una vittoria sulla morte è la sconfitta della morte è la morte della morte come la Chiesa canta la notte di Pasqua questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte Cristo è la primizia noi saremo gli altri frutti speriamo tutti dipendenti dalla primizia capite che regalo che ci ha fatto il nostro Signore ma ogni tanto pensiamoci a questo qui la vita santa è destinata alla risurrezione della carne come vedremo sta roba riguarda anche noi si qui si tribola un po' in questa valle di lacri questa è una valle di lacri pianeta terra figlioli miei cari siamo in quaresima dove si versa qualche lacrima in più su tutti i punti di vista sia perché è un tempo penitenziale sia perché guardate io mi sto facendo questa questa idea perché la vedo insomma tanti anni noi facciamo il nostro programmino penitenziale dobbiamo farlo tutti però c'è anche quello che ci fa il nostro Signore giustamente perché in quaresima un po' di benitenza ce la fa fare anche lui benissimo ma che cosa sono qualche anno di di prova di tribolazione in confronto a questa roba qui niente cioè noi purtroppo se rimaniamo imprigionati nella nostra povera piccola ristretta limitata mentalità siamo rovinati eh come tutti quanti tutti quanti la stragrande maggioranza degli esseri umani guarda in largo pensa in grande bene perché Cristo è risolto il terzo giorno la ragione fa 75 il parroco dovrà spiegare la frase affinché i fedeli non credano che il Signore sia rimasto nel sepolcro tutti interi i tre giorni e gli è stato un intero giorno naturale più una parte del giorno antecedente e di quello seguente chiaro no sabato c'è stato tutto il giorno una parte del venerdì e una piccola parte della domenica ciò basta perché si possa dire con verità che gli è stato tre giorni nel sepolcro e che al terzo giorno è risorto per mostrare chiaramente la sua divinità non volle differire la risurrezione alla fine del mondo d'altro lato perché lo si credesse vero uomo e realmente morto volle rivivere non subito dopo la morte ma dopo tre giorni tempo sufficiente a provare la vera morte sapete che la vera morte si è provata è considerata provata con 24 ore in interrotte di sonno della morte ci siamo e questo dalle nostre super aggiornatissime scoperte scientifiche sapete che un parroco non può celebrare un funerale prima che siano trascorse minimo 24 ore dalla morte fisica del defunto però non è possibile celebrare in altre parole il funerale lo stesso giorno in cui uno è morto purtroppo se fosse morto alla dice Mascola è morto alle tre di notte vabbè lo prepariamo lo vestiamo facciamo il funerale alle tre del pomeriggio no non si può ma Gesù è stato nel sepolcro più di 24 ore questo per chi non lo sapesse l'ho detto altre volte ma capite non tutti si sentono tutte le catechesi di Don Leonardo anche perché sentirle tutte parte il fatto che non è necessario a mio avviso nel senso che più che sentire tutto bisogna sentire bene quel poco che si sente ma sarebbe anche un problema di di tempo no comunque questo per dire che il tempo in cui Gesù è rimasto nel sepolcro è di circa 40 ore e da questo deriva la più pratica molto raccomandabile eucaristica delle 40 ore Gesù è morto alle 15 del venerdì quindi se si fanno un pochino di conti dalle 15 alle 24 passano 9 ore giusto? poi è stato nel sepolcro tutte le 24 ore del sabato quindi 24 più 9 fa 33 è risorto alle prime luce dell'alba della domenica quindi alle 6 alle 6 alle 7 arriviamo a 39 40 più o meno un gesto un gesto anche questo straordinariamente simbolico perché anche durante la morte Gesù raggiunge il famoso numero 40 è un numero più che sacro stiamo vivendo il sacro quadragenario così si chiamava la quaresima se posso aprire una parentesina di attualità facciamo bene la quaresima questo è il tempo più santo e più santificante dell'anno il sacro quadragenario 40 è un numero sacro la quaresima sono proprio 40 giorni perché se fate i conti escluse le domeniche sono 40 giorni dalle ceneri al giorno di pasqua passano esattamente 47 giorni perché ci sono 7 domeniche 5 di quaresima la domenica delle palme e la domenica di pasqua e in particolare ci stiamo avvicinando le ultime due settimane della quaresima più forti ancora è il tempo di passione il tempo in cui si vengono le statue gesto meraviglioso che raccomando a tutti di fare pochissime parrocchie adesso che è diventato facoltativo lo fanno ma è un gesto straordinariamente importante un gesto di lutto un gesto di come dire di per poter rivivere a livello di esperienza sensibile il vuoto di una vita senza Dio le immagini velate no? non si vedono più come campa la stragrande maggioranza degli esseri umani non c'è niente di peggiore di prospettabile per quanto mi riguarda di una vita vuota di Dio non c'è giornata più brutta di quella in cui non dovesse per quanto mi riguarda nascere il sole della santa messa e della santa comunione non mangiare è assolutamente cioè la scelta non mangio o non celebro una mese se non faccio la comunione ma cioè non ci sta neanche da neanche da pensarci tre secondi insomma non esiste pensiero del genere ok perché nel simbolo costantinopolitano fu aggiunto secondo le scritture i padri del primo concilio di costantinopoli aggiunsero a questo punto secondo le scritture la frase desonta dall'apostolo fu da loro trasportata nel simbolo perché l'apostolo stesso ha insegnato che il mistero della risurrezione è sommamente necessario con queste parole se poi Cristo non è risuscitato vana è dunque la nostra predicazione vana è ancora la vostra fede perché se Cristo non è risolto vana è la vostra fede perché sareste tuttora i vostri peccati sant'agostina mirando la fede di questo articolo scrisse non è grande cosa credere che Cristo è morto pagani giudei e tutti i malvaggi lo credono tutti credono che sia morto ma la fede dei cristiani sta nella risurrezione di Cristo questo è per noi cosa grande credere che gli sia risorto commento esalmi 120,6 per questo ancora il Signore ha parlato assai di frequente della sua risurrezione e quasi mai ha discorso con i discepoli della passione senza menzionare la risurrezione così dopo aver detto il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei gentili sarà schernito flagellato e gli sarà sputato in faccia e dopo flagellato lo uccideranno aggiunse infine e il terzo giorno risorcerà avendo gli giudei chiesto di provare con qualche prodigio e miracolo la sua dottrina rispose che nessun altro segno sarebbe stato loro dato se non quello del profeta Giona e come Giona rimase nel ventre del cetaceo tre giorni e tre notti così sarebbe rimasto il figlio dell'uomo per tre giorni e tre notti nel seno della terra attenzione a questo tre giorni e tre notti perché questo è una chicca che dimostra come dire una pia verità una pia verità perché non è evidentemente di fede definita ma cara le anime mariane perché questo tre giorni e tre notti è stato diciamo così trasformato in il terzo giorno perché se è vero come ha detto il consiglio del catechismo romano che Gesù è stato è veramente risultato il terzo giorno basta che sia una parte del venerdì o una parte della domenica per salvare il numero tre è vero che questa cosa la lettera non si è compiuta ma profezia non sbaglia quindi profezia non sbaglia ma alcune profezie sono si chiamano così condizionate da alcuni eventi la fede e la preghiera soprattutto incessante di Maria hanno spinto il Signore a accelerare un po' i tempi come è dimostrato che l'incarnazione è venuta un po' prima del tempo sempre per le preghiere per le ansie di risolvere del Messia della nostra Regina e Signora ma che la Madonna abbia questo potere per chi non ci dovesse credere a dati fondati in re questo fondato sul Vangelo quello dell'anticipo dell'incarnazione sul calcolo dei tempi della profezia delle 70 settimane di Daniele per chi non ci dovesse credere abbiamo le nozze di Cara che ho da fare con te o donna non è ancora giunta alla mia ora gli esegeti dicono che il significato più ovvio di questa espressione non è giunta l'ora di fare miracoli significato letterale poi c'è anche l'espressione simbolica abbiamo già di Giovanni l'ora è l'ora della passione della morte quindi l'interpretazione mistica delle nozze di Cara non è ancora giunta la mia ora cioè l'acqua in vino quindi la vita nuova non ancora dentro l'umanità quindi il vino nuovo della risurrezione ancora l'ho portato bello questo qui ma la prima cosa non è giunta l'ora di fare miracoli mi chiedi di fare una cosa prima del tempo e l'ha fatta poi però la primizia tutte le primizie alla madonna figuriamoci la primizia della risurrezione che è Cristo a chi la porta per primo ovviamente numero 77 necessità e scopo della risurrezione di Cristo per meglio comprendere il valore e il significato dell'articolo tre cose si devono ricercare e conoscere primo perché fu necessaria la risurrezione di Cristo secondo quale sia il fine o scopo della medesima terzo quali utilità e benefici ne siano derivati per noi qui invito a considerare ma ci state facendo caso no la come dire la scientificità pur evidentemente in campo dottrinale di fede no quindi e il modo di argomentare del catechismo che risente ovviamente di quella di quello stile inaugurato soprattutto dal argomentare teologico di Santo Maso ferreo rigoroso che dice qui stiamo parlando della necessità è scopo quindi ci dobbiamo avere queste questioni primo perché fu necessaria secondo fine scopo della medesima terzo utilità e benefici che ne derivano per noi e quanto al primo punto la risurrezione di Cristo fu necessaria per mostrare la giustizia di Dio la giustizia di Dio certo che la giustizia di Dio e vediamo vedremo subito amici cari quanta consolazione per certi aspetti da questa cosa era infatti sommamente opportuno che Dio esaltasse colui che per obbedirgli era stato umiliato e coperto di ogni ignominia l'apostolo addusse questa ragione scrivendo ai filippesi umiliò se stesso fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce per questo Dio lo ha esaltato lo ha risuscitato e gli ha dato il nome che ha disegno di ogni altro nome tu sei sceso così in basso e ti sei così tanto umiliato obbedendo a me per amore mio e allora vai più in alto di tutti quello che facciamo lo ritroviamo fai una grande quaresima e vedrai tu che succede sia qui subito in parte ma soprattutto dopo perché il Signore ricompensa i mediti stritta giustizia rigorosamente secondo per confermare la fede nostra senza la quale non può sussistere la giustificazione dell'uomo ora l'argomento maggiore del Cristo è il figlio di Dio strano il fatto che Egli si è risuscitato dai morti per sua virtù noi non siamo fideisti Gesù ha acclarato ha dato i segni ovviamente della sua divinità segni significa che la fede è sempre un atto volontario e libero i segni non sono come dire non ti danno la certezza incontrovertibile assoluta perché qui non trattiamo di verità scientifiche ma ti danno però la certezza morale che tu puoi fare un atto ragionevole io non è che vado appresso a Gesù Cristo così perché lui ha detto sono il figlio di Dio fai un atto di fede come si può dire per altri per i guru i santoni le cose i pseudoprofeti o no miracoli in vita scacciamenti di demoni di profezia del futuro lettura dei cuori è tornato dal cimitero con le gambe sue bastano è abbastanza no o no terzo per alimentare e sorreggere la nostra speranza poiché essendo Cristo risorto nutriamo certa speranza di risorgere anche noi le membre infatti devono seguire le sorte del capo appunto in questo senso l'apostolo conclude la sua argomentazione scrivendo quei di Corinto e di Tessalonica prima Cristo che la prima inizia poi anche noi saremo risolti con lui anche Pietro principe degli apostoli ha scritto benedetto Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo il quale per la sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza mediante la risurrezione di Cristo da morte è una eredità incollutibile cioè noi possiamo e dobbiamo sperare nella risurrezione perché Cristo è risorto non solo per sé ma per renderci con lui partecipi della sua vittoria sullo peccato e sulla morte infine poi ci fermiamo non riusciamo purtroppo a finire la risurrezione ma forse meglio che la prossima puntata sarà o a super ridosso della Pasqua o addirittura forse in tempo di Pasqua no speriamo di no che se non passa troppo tempo da ultimo bisogna insegnare che la risurrezione del Signore fu necessaria per compiere il mistero della redenzione in quanto Cristo morendo ci ha liberati dai peccati ma risorgendo ci ha restituito per preziosi beni che avevamo perduto con la colpa perciò l'Apostolo ha scritto che questo fu data morte per i nostri peccati e risuscitò per nostra giustificazione affinché nulla dunque mancasse la salvezza del genere romano fu necessario che Cristo risorgesse come era stato necessario che morisse quattro motivi per cui era necessario che Cristo risorgesse li ricapitoliamo e poi chiudiamo primo l'esaltazione della giustizia di Dio secondo la conferma della nostra fede terzo l'alimento della nostra speranza e quarto e quarto il compimento integrale dell'opera della redenzione bastano no? e basta anche per noi con questa puntata Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga laudentur Iesus et Maria grazie a tutti